eccoci e bentornati sul mio canale come sapete da oggi è disponibile call of duty infinite warfare in versione gratuita una versione trial come vi dicevo con due missioni della campagna livello 15 massimo sul multiplayer e livello 3 massimo nella modalità zombies in tanti non riescono a scaricarlo e non lo riescono a trovare vi faccio vedere come fare allora andate nello store di ps4 cerca andate ovviamente a cercare infinite warfare tanti dicono sì lo trovo ma 45 euro scontato non trovo la versione gratuita con cui posso provare il gioco fino al 20 dicembre allora fate così selezionate call of duty infinite warfare perfetto vi apparirà questa schermata e andate tutto in fondo quindi tasto in basso in basso in basso in basso eccola qui prova gratuita call of duty infinite warfare versione di prova inizio 15 dicembre 2016 fine 20 dicembre 2016 questa prova è un gioco completo scaricabile e occupa 60 gigabyte quindi come vi dicevo in questo modo potrete appunto fare il download della versione di prova di call of duty infinite warfare spero che il video sasse vostro gradimento e noi ci vediamo con tanti nuovi video se il video vi è piaciuto iscrivetevi sul mio canale mettete un bel mi piace sul mio video e ci vediamo ovviamente con tanti nuovi video sempre qui sempre sul mio canale